buongiorno oggi a milano splende il sole tra pochi giorni sarà san valentino e allora deciso di parlarvi di regali originali invece di farvi presentare con i soliti fiori soliti cioccolatini guardiamo insieme dei regalini di design che possono piacere al vostro amore se letti sul tema cuore la tallunga il suo pezzo forte è love in bloom e io ve lo ripropongo anche per san valentino perché è un pezzo che mi piace tantissimo se vogliamo essere originali per san valentino invece di regalare solo il vaso riempiamolo di fiori e lo portiamo alla persona che amiamo sempre sei letti per san valentino trasforma una delle sue lampade più iconiche la mans lamp e la crea appunto in edizione limitata per il san valentino dove il topino diventa rosa e la lampadina non è una semplice lampadina ma un bel cuore rosso che batte d'amore un classicone è la scritta amore di slide secondo me è un bel pezzo da avere in casa molto iconico e versatile può essere la base di un tavolino con un piano in vetro o diventare una panca e secondo me è anche solo bello da tenerli per guardarlo funky table ha sempre una selezione super super cool e tra le varie cose che secondo me andrebbero bene per san valentino la più bella è il tappeto milagro messicano quindi riprende il tema del cuore sacro a forma di tappeto con dei colori super super spavillante bellissimo se invece siete alla ricerca del pezzo giusto per la cena di san valentino non lasciatevi perdere i bicchieri casanova con la scritta amore io li trovo stupendi e poi possono essere usati sempre per una cena tette a tette che ve ne pare di questa selezione siete pronti a non fare il solito regalo banale presentatevi con un regalo originale di design perché così renderà più bella non solo la serata ma anche la vostra casa io come al solito vi lascio la box scrivetemi tutto qui e diamo una splendida giornata ciao 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 ciao